Lo scopo con cui siamo nati è proprio lo scopo di aggregazione, l'unione fa la forza perché essendo in tanti riusciamo a risolvere maggiormente i problemi delle singole aziende. Unire i piccoli per affrontare il grande mercato. È lo spirito con cui è nata 40 anni fa la cooperativa Lunitaria in Lucchesia. Oggi ne fanno parte 500 soci, agricoltori e allevatori in 5 province toscane. Un centinaio produce frutta e verdura. Qui siamo nel Pisano, in Valdera, l'azienda Filippeschi coltiva 30 ettari di ortaggi ai piedi di Casciana Alta ma da sola difficilmente avrebbe trovato uno sbocco nei supermercati. Per questo è entrata nella rete dell'Unitaria che da quasi 20 anni porta i suoi prodotti anche nei coffee del territorio con una particolare attenzione alle varietà locali. Affiancato a prodotti normali di ortofrutta abbiamo una gamma di prodotti tipici che abbiamo recuperato anche grazie al sistema dell'aggregazione della cooperativa perché riusciamo a aggregare anche piccolissime aziende che fanno dei prodotti particolari e che se non passassero attraverso il nostro filtro non arriverebbero poi ai consumatori perché rimarrebbero nei circoli dei mercatini locali per pochi consumatori. Una cooperativa come Unicopre Firenze è la risposta naturale alle nostre esigenze perché Copre Firenze ha a cuore il territorio come noi e ha sempre sostenuto le produzioni locali. Dalle serre adesso arriva la prima raccolta della stagione di un pomodoro piuttosto diffuso ma che qui grazie alle caratteristiche del territorio conquista un sapore unico. È il pomodoro nero otello ricco di licopene, un potente antiossidante. È un ibrido del nero di Crimea questo pomodoro e poi qui ci viene particolarmente buono perché usiamo le acque delle terme che hanno una conducibilità altissima quindi un po' risomiglia diciamo al pomodoro siciliano e ha delle caratteristiche organolettiche e molto saporito. Intanto nei campi hanno iniziato a crescere le piantine di pomodoro pisanello e canestrino due varietà toscane che rischiavano di andare perdute e che sono state valorizzate grazie a questa squadra di agricoltori. Il canestrino è diventato anche presidio slow food. I primi frutti arriveranno tra un paio di mesi. Grazie.